Torre Pozzelle 13 maggio 2012 Colori meravigliosi Alghe rossate che contengono un olio abbronzante che te le spalmi addosso spremendole e altri tipi di alghe che diventano biancastre al sole questo primo caldo sole di una primavera che esplode in tutta la sua virulenza e il suo tepore quasi estivo sono queste le immagini che ci riconciliano col mondo e che ci fanno pensare che Dio è la natura Deus sime natura come diceva Spinoza e che mi avvicina all'Umbanda al Candomblé a quella religione sincretica brasiliana che personifica le forze della natura come il mare, come le cascate, come i fiumi come i venti, come i tifoni e li identifica con degli oriscià delle creature a metà strada tra le deità gli animali e gli dei sono astbi come i piani uff ai il vostro rispettava